Buonasera, buonasera da Onda Tg, in apertura subito la cronaca a Pesca Seroli, un giovane chef originario di Avezzano è stato trovato morto lungo le scale dell'hotel in cui lavorava. La procura della Repubblica di Sulmona ha avviato un'indagine, sentiamo meglio il nostro servizio. Indaga la procura della Repubblica di Sulmona sulla morte di Antonello Ferreri, giovane chef di 35 anni originario di Avezzano. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina sulle scale di un hotel di Pesca Seroli dove il 35enne prestava servizio da qualche mese. La procura della Repubblica di Sulmona ha quindi aperto un'inchiesta. Il magistrato di turno ha disposto l'esame autottico per far luce sulle cause del decesso. Sono due al momento le ipotesi al vaglio della Compagnia dei Carabinieri di Castel di Sangro, diretta dal capitano Domenico Fiorini, che si sta occupando del caso. Il giovane chef potrebbe aver perso la vita per un improvviso malore che sarebbe risultato fatale, provocando la caduta, oppure la morte potrebbe essere subentrata dopo un incidente. La dinamica, insomma, lascia ancora qualche dubbio. A ritrovare il corpo esamine del giovane cuoco sarebbe stato un collega che ha lanciato subito l'allarme e avvertito i soccorsi. Il giovane è morto per un politrauma. Costatare il decesso, già accertato dai sanitari del 118, è stato il medico legale che ha eseguito una prima ispezione cadaverica. Pesca Seroli e Avezzano nel frattempo stanno piangendo la morte di un giovane chef. Gli amici lo chiamavano Lello e in molti stanno lasciando messaggi di cordoglio sul suo diario Facebook. Resta il ricordo di un giovane che amava la vita e la cucina. La brace accesa era il suo motto. Ora sarà l'atopsia a chiarire le cause di una morte che ha scosso due comunità. La cronaca ora ci porta in Valle Peligna. Sacchetti non biodegradabili, blitz dei carabinieri forestali anche a Sulmona e a Prato la Peligna. Sanzioni per 15.000 euro. Il nostro servizio. Tre sanzioni amministrative elevate per un importo complessivo di 15.000 euro e un fermo di polizia giudiziaria per non aver ottemperato la normativa vigente. E questo è il bilancio del blitz eseguito dai carabinieri forestali di Sulmona che hanno ispezionato tre attività che operano sul mercato ortofrutticolo tra Sulmona e Prato la Peligna. Tutte gestite da soggetti di nazionalità egiziana. I forestali hanno elevato sanzioni in due esercizi commerciali che operano in quel di Prato la Peligna, mentre in uno di Sulmona, oltre alla multa, hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria alle confronti del titolare che dovrà presentarsi alla questura di Ascoli Piceno. Stando agli accertamenti, l'uomo non era in regola con la normativa in materia di immigrazione. L'attività è incentrata sulla commercializzazione e smaltimento regolare di shoppers contraffatti ed è stata effettuata nelle regioni di Lazio e Abruzzo. Circa 90 carabinieri forestali del gruppo dell'Aquila e Roma, unitamente a 12 carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, hanno eseguito misure cautelari, perquisizioni e sequestri disposte da PM Fabio Picuti e dal giudice per indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, in 30 esercizi commerciali e serie di aziende, quasi tutte riconducibili a soggetti di nazionalità egiziana, dislocati in diverse località delle province. Nel corso delle perquisizioni, avvenute contemporaneamente in 30 attività commerciali e ditte, sono state sequestrate 8 tonnellate di sacchetti corrispondenti a diversi milioni di pezzi che vengono così sottratti alla dispersione in ambiente. Da luglio 2018 ad oggi risultano essere stati importati oltre 10 milioni di sacchetti. E ora l'ospedale di Sulmona, l'attacca rotta da diversi giorni ma non riparata, il Tribunale per i diritti del malato pronto a chiedere l'ispezione del Ministero. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Abbiamo ritenuto opportuno, vista la necessità di eseguire un esame così importante per la diagnostica, di scrivere alla ASL per capire bene la natura del problema. Comunque sollecitando una soluzione che è quella dell'utilizzazione di una struttura convenzionata con la stessa ASL o comunque di mandare i pazienti che magari hanno delle necessità impellenti su altra struttura ospedaliera, magari della stessa azienda sanitaria. Un sollecito all'Astra Vezzano Sumona L'Aquila per la risoluzione di un problema che da giorni sta recando non pochi disagi agli utenti ma anche la minaccia di un esposto al Ministero della Salute con la conseguente richiesta di un'ispezione all'interno del presidio ospedaliero. Si muove il Tribunale per i diritti del malato all'indomani del guasto all'attacca che costringe i cittadini a ricorrere ad altri presidi ma molti in questi giorni si sono presentati all'ospedale dell'annunziata per poi essere rimandati a casa. Un disservizio che si ripete tanto per gli utenti quanto per gli addetti ai lavori. Una situazione che è diventata inaccettabile soprattutto per un'area dove è stato costruito e preso in consegna un nuovo presidio ospedaliero. La mancanza di uno strumento di grande importanza per le diagnosi non fa venire meno il dovere della ASL di adoperarsi per garantire la diagnosi e le conseguenziali cure avvalendosi di strutture convenzionate o trasportando il paziente in altri nosocomisi. Si legge nella lettera che il coordinatore del TDM, Katia Puglielli, ha spedito la ASL. Questa mattina un caso, ad esempio, si è risolto grazie alla sinergia con il TDM di Castel di Sangro. Ma la Puglielli avverte l'azienda sanitaria. Qualora il problema non dovesse essere risolto in maniera tempestiva, siamo costretti a richiedere l'intervento del Ministero della Salute. E ora la politica, Marsilio sale a bordo, non faremo campagna elettorale all'Udc e poi annuncia la riapertura del tavolo per la bretella ferroviaria. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Si comporta in maniera scorretta e sleale, non può far parte di questa cifra di serietà che l'Abruzzo deve poter esibire nel prossimo Governo e la mia squadra di Governo sarà fatta solo da persone leali, corrette, competenti, preparate e credibili nei loro territori. Lo ha detto ieri mattina a Sulmone, candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, prima di salire a bordo del treno su Mona L'Aquila con i candidati della sua coalizione. In riferimento al caso di Cica, ha inserito due candidati nell'ultimo minuto, Marianna Scoccia, sindaco di Prezza e Mario Livieri, consigliere regionale uscente. Noi non faremo campagna con l'Udc, io non lo sosterrò, il suo simbolo non sarà esibito a fianco dei nostri simboli, qualora eleggesse consiglieri non faranno parte della maggioranza, la maggioranza è sufficientemente ampia per garantire il Governo della Regione. Quando c'è coesione tra gli eletti e dentro la maggioranza, un voto di differenza è sufficiente per governare cento anni. Così ha risposto Marsilio alle domande dei giornalisti su come sarà possibile scudere tecnicamente la lista dalla coalizione del centro-destra. Al momento della ripartizione dei seggi, visto che non è consentito il voto disgiunto, Marsilio risponde poi a competitor del centro-sinistra, che hanno parlato di rotture e divisioni prima ancora di cominciare. Il centro-sinistra non è credibile perché rappresenta la perfetta continuità anche negli uomini che ha candidato con Luciano D'Alfonso e il Partito Democratico, inutile nascondere il Partito Democratico e tentare di seppellirlo sotto una coltre di liste civiche civetta che rappresentano quadri politici e sindacali della sinistra storica abruzzese nel tentativo di far dimenticare il disastro compiuto da cinque anni di un governo regionale che ha lasciato un abruzzo desolato e senza speranze. Il candidato presidente passa poi al problema dei trasporti, della velocizzazione dei collegamenti con Roma dalle aree interne e al progetto della bretella ferroviaria, presentato proprio dalla regione nell'era d'Alfonso. Il nuovo governo regionale si siederà al tavolo con tutti gli attori, affronterà le questioni coinvolgendo i territori, i sindaci, le associazioni di categoria, perché solo dalla condivisione e dall'analisi puntuale dei problemi nascono le soluzioni e le soluzioni saranno le migliori soluzioni possibili per tutto l'Abruzzo e complessivamente. Io sono un uomo. E sul caso Udc ora parla Marianna Scoccia, io la più coerente, dice gli altri hanno solo paura di misurarsi. Il segreto della vittoria in campo, ma anche nella vita, sta nel saper rispettare mio compagno di squadra, ma anche il mio avversario. Nessuno vince da solo, né in campo, né nella vita. Prende in prestito le parole di Papa Francesco e sindaco di Prezza Marianna Scoccia per rispondere sui social, a quanti in queste ore sono posti di traverso la sua candidatura al Consiglio regionale, depositata all'ultimo minuto nella lista dell'Udc. Il candidato presidente Marco Marsiglio ha annunciato l'esclusione della lista della coalizione, come pure due candidati hanno avviato le procedure per la revoca della candidatura. In mezzo alla bufera la Scoccia difende il suo trascorso politico, rinfresca la memoria ai suoi competitor, punta il dito contro l'invidia e la paura di chi a suo dire non è in grado di misurarsi nella competizione elettorale. L'unica coerente sono io, tuone sindaco di Prezza, che ora esce lo scoperto dopo un inizio di campagna elettorale, tutt'altro che tranquillo. Sono animata dalla passione per la politica da quando avevo 16 anni e frequentavo la federazione del Partito di Alleanza Nazionale. Quelli erano gli anni in cui si faceva avere proprie attività di partito, quei luoghi erano carichi di valori e idee. Sono stata all'età di 25 anni consigliere comunale di Avezzano, qualche anno dopo assessore della provincia dell'Aquila. Alla politica devo molto, non solo in termini di crescita professionale umana, ma anche grazie alla politica ho conosciuto l'uomo che è diventato poi mio marito. rimarca la scoccia riferendosi all'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, ricordando pure che Andrea è arrivato molto dopo la passione per la politica, la mia militanza e le cariche istituzionali che ho ricoperto. Oggi sono sindaco di Prezza, vorrei competere in questa tornata elettorale, chiedere giudizio dei cittadini che sono gli unici ad avere la sovranità nella nostra meravigliosa Italia. Mi è stato insegnato che la politica è inclusione e non esclusione e che gli avversari si battono sul campo il più forte vince. Comprendo la paura, sì perché di questo si tratta, paura di misurarsi, ma non comprendo la cattiveria gettata su di me. Ovviamente non per questo mi arrendo. Continuerò a lavorare per la mia terra, per il mio popolo, per il mio Abruzzo con più forza e coraggio di eri, conclude la scoccia che si è tolta qualche sassolino dalla Scarpa. E ancora le regionali e lo stop al personalismo, rinnovamento democratico in campo con le idee ma senza candidati. Il nostro servizio. Sicuramente molti avevano pensato che il lavoro di un gruppo di sindaci del territorio fosse finalizzato a protagonismo di qualcuno. Invece no. Quel lavoro era veramente finalizzato alla soluzione di problematiche che attanagliano pesantemente il nostro territorio. Nel modo più umile e concreto lo scrive in una nota a rinnovamento democratico il gruppo di sindaci e amministratori di centrosinistra che ha deciso di non presentare liste o candidati per le elezioni regionali ma di sostenere comunque il candidato presidente Giovanni Lennini. Anche questo è un diverso modo di vivere e intendere la politica spezzando una prassi, quella della presenza a tutti i costi, dei personalismi che bene alla politica non fa, fanno notare del movimento spiegando che dopo una serie di riflessioni si è infatti ritenuto importante continuare a stare vicino all'agenda nel modo più autentico, restando nel gradino più basso quello dell'amministrazione di primo livello, comunale. Questa scelta sarà dettata da una serie di ragioni, la consapevolezza di non riuscire a redigere un programma concreto, fattori proposti e soluzioni praticabili realmente, con l'individuazione di tanto di capitolo di bilancio per la realizzazione dello stesso, la mancanza di protagonismo ma la scelta della politica come servizio, l'impegno assunto nei confronti delle rispettive comunità, la volontà di voler continuare a fare una politica dei fatti, anche questo è un modo diverso di intendere il proprio ruolo, non significa però che il gruppo non sarà parte attiva nelle prossime elezioni regionali, lo stesso sta lavorando su un documento programmatico, fatto di pochi punti, di altrettante soluzioni e chiederà un impegno di tutti i candidati del territorio sullo stesso. Noi non siamo nati per contarci, siamo nati per fare, chiosano sindaci e amministratori del movimento. E intanto il liceo classico di Sulmona resta in abbandono, il maltempo lascia altri segni sulla facciata della Sede Storica di Piazza 20 Settembre. Vediamo nel nostro servizio. Pezzi di intonaco dalla facciata si erano staccati già due anni fa, quando si rese necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma le ultime ondere di maltempo non hanno fatto altro che aggravare la situazione del liceo classico di Sulmona. Ad accorgersene sono stati gli assiuri frequentatori di Piazza 20 Settembre che hanno segnalato il caso alle autorità preposte, preoccupati per le sorti di un edificio storico abbandonato a se stesso. Oltre alla ristrutturazione che ferma il palo in attesa delle risultanze del genio civile che ha chiesto ben 17 integrazioni al progetto rifinitivo esecutivo presentato dal Comune, si rende urgente e necessario anche un intervento sulla facciata dell'edificio scolastico, danneggiarà dalle piogge e dalle numerose precipitazioni degli ultimi anni. È inaccettabile che questo liceo, dove sono cresciute intere generazioni, cada nel dimenticatoio. Ci viene il magone a guardare questo edificio che sta subendo diversi danni, quelli derivanti da sisma. Si aggiungono anche altri danni del maltempo, tornano in coro i sulmonesi. Nel 2019 liceo classico taglierà l'amaro traguardo del decennale della chiusura. Da qui la conferenza dei servizi chiesta da vice sindaco e assessore comunale ai lavori pubblici Nicola Angelucci, che ha chiamato raccolta sorrindendenza a genio civile provincia per addivenire una soluzione a stretto giro. Per i lavori ci sono a disposizione 4,2 milioni di euro, ma si attende l'ok del genio civile per il rilascio dell'autorizzazione antisismica. Il comune negli anni è diventato soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori, mentre è proprietaria dell'immobile. È la provincia dell'Aquila. E ora la mobilità sostenibile, questa sconosciuta, secondo i 5 Stelle di Sulmona, che sono preoccupati per i fondi in bilancio. La mobilità sostenibile finisce nel dimenticatoio. Torna all'attacco dell'amministrazione Casini, in meet-up amici di Beppe Grillo, che esprime preoccupazione sulla tenuta dei fondi fatti allocare in bilancio dall'ex assessore comunale Cristiana Civita. Un altro impegno preso solo a parole e mai realizzato nei fatti. Sembra essere un triste copione che si ripete, quello degli impegni presi e non portali a termine dell'amministrazione Casini. Questa volta la sua apparente attenzione alla mobilità sostenibile a finire nel dimenticatoio, fanno notare i pentastellati, spiegando che a seguito di uno stanziamento nel bilancio comunale di 30.000 euro per il piano urbano di mobilità sostenibile, voluto dall'ex assessore La Civita, di lì a poco defenestrato dal sindaco, registriamo ora un comportamento politico in evidente contrasto con le promesse inizialmente fatte per una città più vivibile a misura di cittadino. La nostra preoccupazione è che, ancora una volta, a causa di mobilità politica fatta sin sostenibile, delle risorse pronte e disponibili possano andare perdute o, peggio, essere utilizzate per altri scopi che nulla hanno a che vedere con l'ambiente e la mobilità sostenibile. È un tema effettivamente passato, in secondo piano, eppure ieri in alcune città italiane è stata una domenica all'insegna della sostenibilità, una domenica al mese in bici, a piedi e senza auto. Assumore è possibile? Ma la vedo difficile l'inverno, ragionandoci invece su 365 giorni in anno sarebbe una cosa ottima per alleitare, per agevolare il traffico e per la salute. Sì, quando non ci sono esigenze sarebbe una buona cosa, rispetto in più anche per la natura. Io la auspico perché un centro, non solo il centro, ma anche il circondario, senza auto, sarebbe utopia del 3.000. Quindi, insomma... Sì, sì, io credo che in questo periodo dove c'è l'inquinamento, diciamo che comunque andare un po' in giro a piedi con una bici potrebbe essere una cosa buona, non solo per tutti quanti, ma anche per fare un po' di moto. Ora l'emergenza umanitaria in Congo con la missione del professor Barone e l'appello alla pace lanciato da Prato alla Pellinia. Massacri, stupri di donne e violenze sui bambini, una situazione drammatica, quella che sta attraversando il Congo, che ha spinto Francesco Barone, docente di pedagogia all'Università dell'Aquila, a lanciare l'appello a nome del premio Nober per la pace 2018. Denis, medico ginecologo congolese che opera in un ospedale della fondazione Pansi, insignito anche di un altro premio attribuito lì dal Parlamento europeo. Il medico vive in una struttura protetta, considerando che il Congo è governato dal regime militare, è incaricato Barone di farsi portavoce del messaggio di pace, una vera e propria missione per la comunità internazionale, quella che il docente sta portando avanti. Sì, io ho avuto modo di incontrare il premio Nobel per la pace 2018 nell'ultima missione che ho fatto a Goma con altri volontari. Ho avuto l'onore di incontrare Denis, il quale mi ha pregato appunto di diffondere questo documento, che è un documento originale, in cui mette in evidenza la difficile situazione, la precaria situazione in cui si trovano i cittadini della Repubblica Democratica del Congo. La situazione è una situazione che mette in risalto massacri, torture, mette in risalto appunto la deprivazione dei diritti fondamentali in cui vivono donne, uomini e bambini del paese. Lui appunto è molto sensibile rispetto a questo aspetto perché come è noto il dottore si è impegnato nel corso degli anni per la presa e per la cura di milioni di donne che erano state violentate. Lui è un ginecologo e comunque ha attivato, ha aperto questa fondazione che è la Fondazione Panzi, in cui accoglie tante persone che vivono in condizioni di precarietà e di marginalità. Il professor Barone da 21 anni compie missioni umanitarie. Finora ne ha fatte 51 tra Congo, Rwanda, Burundi, Senegal. Questa sera racconterà la sua storia nella rubrica Vivere la vita di Onda TV in onda alle ore 22. E riparte la Sulmona la campagna informativa sul testamento biologico davanti ai genitori di Luana Englaro. Gaetano Trigilio. Molto interesse ha suscitato l'iniziativa dell'Associazione Cammino di Sulmona che ha promosso ed organizzato un convegno sul tema dibattuto e delicato. Il testamento biologico è principio di autodeterminazione. Sancita con legge 219 del 2017, promulgata il 31 gennaio del 2018. Gli organizzatori si sono assicurati una presenza importante, quella di Beppino Englaro, padre di Luana, la cui vicenda dolorosa, tutti ricordiamo. È una legge che ha avuto una grandissima battaglia in Parlamento, ma una volta che è arrivata, a seguito di questa grossa guerra che ha combattuto il signore Englaro, in cui ha portato al servizio di tutti il proprio dolore, affinché tutti potessimo avere la possibilità di disporre della nostra vita e dei nostri trattamenti nel momento in cui avessimo un problema di cognizione. Bene, questa legge oggi passa piuttosto come una legge sull'eutanasia, come una legge di chi non crede, mentre invece è una legge di dignità e forse i media l'hanno fatta passare troppo, troppo, troppo sotto notizia. L'attenzione del numeroso pubblico si è appuntata sulla relazione del signore Englaro, il quale ha raccontato con topizia di informazioni la vicenda di cui è stato dolorosamente protagonista. In convegno più volte è stato sottolineato il coraggio di un padre che ha messo il suo dolore a disposizione della intera comunità nazionale. Questa legge la soddisfa culturalmente. Senz'altro mi soddisfa perché ha l'impostazione giusta, perché con questa legge una persona come l'Eluana non si farebbe in assoluto mai intrappolare e non darebbe mai la possibilità a delle persone poi di andare incontro, cioè i parenti e questo. Quindi di più non potevamo pretendere dalla classe politica. Molta emozione ha suscitato la lettura di una lettera di Eluana scritta ai genitori qualche mese prima del drammatico incidente. L'unica cosa che vi posso dire è che vi voglio un mondo di bene e che siete due persone veramente in gamba e spero un giorno di diventare brava come voi. Con tanto affetto, la vostra bambina Eluana. Il dottor Gianviglietto Andrea ha prontato i problemi del dolore cronico in collegamento a quanto la legge stabilisce. Tra l'altro ha sottolineato come la legge restituisca al cittadino i suoi diritti, in particolare il diritto alla dignità. Il concetto di dignità della persona credo che sia un aspetto fondamentale nell'esercizio dell'attività medica. Non vi può essere nessuna attività medica che abbia connotazioni di onestà, non soltanto intellettuale, ma etica e professionale, un'attività che non rispetti la dignità della persona. Addio a Pietro Gualtieri, un pezzo di storia della città di Sulmona, storico bigliettaio del cinema pacifico, ma anche umorismo fatto in persona. Il nostro ricordo nel servizio. Se ne va un altro pezzo di storia della città di Sulmona. È morto questa mattina all'età di 68 anni, Pietro Gualtieri, bigliettaio della storica sala cinematografica di Via Roma, per ben 25 anni. Lo chiamavano Baciccia ed era uno dei personaggi che a Sulmona non passava inosservato. Per il suo carattere schietto e sincero, per la sua capacità di intrattenersi con le persone, per il suo modo di dispensare consigli, ma anche per il suo sorriso e la battuta sempre pronta. Non si faceva mai trovare impreparato, ma in molti lo ricordano dietro alla biglietteria del cinema pacifico. Per 25 anni è diventato l'amico, il fratello, il padre di tutti. Ultimamente il diabete lo aveva costretto sulla sedia a rotelle, ma Pietro non aveva perso il suo senso dell'humor. Voleva sempre sapere l'ultimo scoop, l'ultima notizia. Fino alla fine si è sempre mostrato attento ai problemi della sua Sulmona. Gualtieri viveva con il fratello Paolo, anche lui molto conosciuto in città. Nelle ultime settimane si vedeva poco, fino a quando ieri sera è stato trasferito in ospedale dove è deceduto. Il rito funebre sarà celebrato domani alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, a due passi della sua abitazione di via Cornacchiola. Pietro, quando i sulmonesi andavano al cinema, augurava a tutti buona visione. Per lui ora vale lo stesso augurio, buona visione da un'altra prospettiva. E intanto l'impianto del riscaldamento non funziona al teatro di Pratola Peligna, stagione teatrale momentaneamente sospesa. Il nostro servizio. Cartelione teatrale momentaneamente sospeso per il comunale d'Andrea di Pratola Peligna. A far saltare la ripresa della programmazione 2019 è un guasto all'impianto generale di riscaldamento. A darne notizie l'associazione culturale Informart che gestisce la stagione curata, la direttore artistico Patrizio Maria d'Artista. Restiamo in attesa della risoluzione del problema che con questo clima è indispensabile per lo svolgimento dello spettacolo, dichiara la presidente di Informart Beatrice Terafina. Non appena sarà ripristinato il tutto riprenderemo la normale attività e comunicheremo l'aggiornamento di quelle date, ci auguriamo soltanto una, costretta a rinvio. Ci scusiamo per il disagio ma sono cause indipendenti della nostra volontà e soprattutto imprevisti, non pianificabili. L'apertura della stagione era prevista per domenica 20 gennaio con la sirenetta, spettacolo per ragazzi ispirato alla favola, in scena con la compagnia tatrale La Favola Bella per la regia di Rossella Micolitti. La prima tale sarà dunque rimandata a data da destinarsi nella speranza che i problemi tecnici possano essere risolti a più presto e ripartire alla grande con la stagione del D'Andrea già domenica 10 febbraio alle ore 18 con lo spettacolo Coppia Aperta di Dario Fo e Franca Rame. Ed ora è l'atteso momento della Buona Notizia del Giove. Qual è il segreto del successo? Basta coniugare tradizione e innovazione e questa è la ricetta presentata dalla San Rocco Dentisti che ha festeggiato alla grande la cifra tonta dei vent'anni di attività sabato scorso a Spazio Pingue. Vent'anni della nuova generazione incastonati nei 50 anni di storia e tradizione dello studio dentistico. Un'avventura comincerà da Vincenzo San Rocco, oggi porterà avanti dalle figlie Tiziana e Emiliana. Un bel traguardo, quello centrato dallo studio dentistico che oltre a puntare sulla garanzia della tradizione ha abbracciato anche la frontiera dell'innovazione con impianti nuovi e innovativi. Vent'anni pieni di sacrifici, di investimenti ma soprattutto di soddisfazioni con tutti i nostri pazienti che ci onorano questa sera della loro presenza insieme a dei loro amici e quindi colgo l'occasione proprio per ringraziarli tutti per essere stati qui questa sera a sostenerci come in ogni occasione. Vent'anni non sono, come dicevi tu, troppo pochi ma iniziano ad essere un bel traguardo e ricordo che San Rocco Dentisti nasce con San Rocco Vincenzo però quasi 50 anni fa quindi il traguardo oggi diventa ancora più importante quindi io sono onorata di rappresentare mio padre in questa occasione e ringrazio anche Onda TV per esserci sempre vicini. Sicuramente Tiziana con il suo gruppo ha cercato già da tanto tempo di investire sulla tecnologia sull'innovazione, sul progresso scientifico, sulla ricerca. Io sono una di quelle persone che insieme al professor Barone ed altri membri dello staff si occupano quotidianamente di ricerca a livello nazionale e abbiamo il piacere e l'onoro di lavorare con lei ormai da tanti anni portando tutto quello che oggi è l'avanguardia in implantologia in particolare che è la mia materia ma anche in tutte le altre branche come avete visto un po' in giro per la sala ci sono tutta una serie di device, di dispositivi che permettono di vedere quello che oggi è uno studio che ha investito nella tecnologia, nel progresso, nella scienza mettendo il paziente al centro quindi con l'obiettivo di garantire una salute a 360 gradi guidata proprio dalla tecnologia. Una serata fra musica e buon cibo per brindare i primi 20 anni in attesa di traguardi ancora migliori. La pagina sportiva del lunedì con il calcio nella quarta giornata di ritorno dell'eccellenza pesante sconfitta dei rostellati a San Marco di Pescara con il delfino Flacco Porto. I pratolani sono stati battuti per 5-1 dopo che erano riusciti a chiudere primo tempo in vantaggio con il gol di Pelino. La squadra di Saccoccia tra due giorni tornerà nuovamente in campo per il recupero della terza di ritorno con il San Buceto, mercoledì 16 gennaio alle 14.30 allo stadio Ezio Ricci. Nella terza di ritorno del girone B di promozione non si è giocato per impraticabilità di campo il derby Peligno-Vidiana-Sulmona-Raiano. Il Raiano mercoledì prossimo 16 gennaio recupererà la gara al Cipriani contro lo Scafa valida per la seconda di ritorno mentre il derby Vidiana-Sulmona-Raiano verrà recuperato mercoledì 23 gennaio. Nel girone A di prima categoria si è disputata l'ultima giornata di andata. Nell'anticipo di sabato la Virtus Pratola è stata sconfitta per 6-3 a torno in parte contro di San Francesco. L'eredi dei Pratolani che erano riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio 3-1 sono state realizzate da Luzzi, Caraccia e Ventresca. Giornata positiva invece per il Bugnara che ieri a Cipriano-Raiano ha vinto contro l'atletico Civitella-Roveto per 3-1 con una tripletta di Crugniale. Recupero mercoledì 16 per il Bugnara-Gran Sasso d'Italia contro il Città dell'Aquila per la sedicesima di andata. Nel girone C di prima categoria non hanno giocato. Causa-Neve il Pacentro contro il Pianella e il Popoli contro la Pennese. Mercoledì 16 verranno recuperate Popoli, Virtus Pescara e Giuliano Tiatino-Pacentro. Nella prima di ritorno del girone A di seconda categoria sono state rinviate ben 4 gare su 6, tra queste quelle che vedevano impegnate le Pelini, Aurora Cerchio e Collarmele-Morronese. Nella dodicesima e penultima di andata del girone B di terza categoria sconfitta di Rocca Casale per 3-2 sul campo del Castronovo. Per la squadra di Guiasci ci sono andati a segno Rio Colele e Fernando Palanza. Ha osservato il turno di riposo la Maiella United e nell'ultima di andata del girone A della Serie C2 di calcio a 5, Smona Futsal, è uscito sconfitto per 5-4 la Tavezano contro la Fenice. Ora parliamo del piccolo Pietro Ledda, 8 anni, di Sulmona che ha accompagnato l'ingresso di Lazio-Novara per conoscere il suo idolo immobile. Domenico Berlingeri. Un sogno è diventato realtà per Pietro Ledda, 8 anni di Sulmona dell'Olimpia Cedas, che ha potuto ammirare dal vivo e conoscere il suo idolo Ciro Immobile. Pietro lo scorso sabato ha avuto la possibilità di far parte dei bambini che hanno accompagnato l'entrata in campo di Lazio e Novara che si sono sfidate per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Una giusta di gioia immensa per lui quando nel tunnel, prima dell'ingresso all'Olimpico, Immobile gli ha battuto il 5 chiedendogli il nome. Pietro Ledda indossava la maglia della Lazio ed è entrato sul terreno di gioco con Ronaldo Pompeo da Silva, centrocampista brasiliano del Novara. Pietro non ha saputo trattenere l'emozione, tant'è che il calciatore del Novara gli ha detto se sentisse freddo e lui ha risposto di no. C'è stata tanta contentezza sino al termine anche per la doppietta di Ciro Immobile che ha contribuito al successo per 4 a 1 della Lazio, utile a centrare il passaggio ai quarti. Una bella esperienza per il bambino sulmonese che, tifoso del Milan, si è avvicinato da tre anni all'Olimpia Cedas proprio per l'affiliazione con il club rosso-nero ed è allenato da Franco Ferraro. È proprio il caso di dire quando la passione porta ai risultati. di questa elezione finalmente hanno messo le mani su quelle attività egiziane che vendevano prodotti fortemente scadenti con la frutta messa in mezzo alla strada senza alcuna norma igienica, approfittando con prezzi bassissimi della povera gente. E poi ancora mi sento fortemente fuori dalla politica regionale sapendo i molti accordicchi bilaterali che dopo le elezioni si faranno come al solito le loro cose trascurando il territorio. E poi ancora infatti tutti gli impegni presi da questa amministrazione finiscono nel vuoto, si stanno perdendo continuamente i fondi. Ricordo di Gualtieri, Pietro era un vero personaggio della città, dalla sala Antoniana al Pacifico ci teneva tanto ad essere chiamato proiezionista. Ciao Pietro, altri sono arrivati in questo momento. Ciao Grande Pietro che anche quando da piccoli non avevamo i soldi per il biletto ci faceva entrare di nascosto al cinema, adesso ti facciamo entrare noi nel paradiso per il tuo buonanimo. E poi gli auguri alla dottoressa San Rocco e a noi invece ci salutano e ci scrivono buonasera dall'Inghilterra. Bene, continuate a scriverci sui social, vi ricordo dopo di noi Abruzzo Notizia e il punto alle 22 non perdete l'appuntamento del lunedì con la rubrica Vivere la vita. Ed è vero tutto per questa edizione, Onda Rigi torna domani, grazie per essere rimasti con noi, a tutti una buona serata. Grazie a tutti.